Capitolo 19 Eravamo appena arrivati e Steven doveva già andarsene. Sarebbe stato in giro con mio padre a cercare l'università a cui iscriversi e alla fine del viaggio sarebbe tornato a casa invece che a Cousin's Beach. In teoria a studiare per il test d'ingresso, ma più probabilmente per uscire con la sua nuova ragazza. Andai in camera sua a guardarlo mentre faceva i bagagli. Non aveva portato un granché, solamente una sacca. Di colpo provai tristezza. Senza Steven gli equilibri si sarebbero alterati. Lui era una sorta di stabilizzatore, il segno di quanto le cose non cambiassero mai per rimanere sempre le stesse. Perché Steven non cambiava mai. Era lo stesso Steven detestabile e insopportabile. Il mio fratellone, la rovina della mia vita. Era come la nostra vecchia coperta di flanella che sapeva di cane bagnato, puzzolente, confortante, parte dell'infrastruttura che costituiva il mio mondo. Con lui presente ogni cosa era immutabile. Tre contro uno, maschi contro femmine. Mi dispiace che tu parta, gli dissi avvicinando le ginocchia al petto. «Tra un mese ci rivediamo», mi ricordò lui. «Un mese e mezzo», lo corressi con aria imbronciata. «Ti perderai il mio compleanno. Ti darò il regalo a casa». Non è la stessa cosa. Sapevo che mi stavo comportando in modo infantile, ma era più forte di me. «Mi manderai almeno una cartolina?» Steven chiuse la sacca. «Dubito che ne avrò il tempo. Ti manderò un messaggio, però». «Puoi portarmi una felpa di Princeton?» Non vedevo l'ora di indossare la felpa di un'università. Era una specie di distintivo che ti rendeva matura. Desideravo un cassetto pieno di felpe universitarie. «Se me lo ricordo», mi rispose. «Te lo ricorderò io», replicai. «Ti manderò un messaggio». «D'accordo, sarà il tuo regalo di compleanno». «Affare fatto». Mi buttai di schiena sul suo letto e appoggiai i piedi alla parete. Lui odiava che lo facessi. «Penso che un po' mi mancherai». «Sarai così presa a sbavare dietro a Conrad che non ti accorgerai neppure della mia assenza», rispose lui. Gli feci la linguaccia. Stephen partì la mattina presto. Conrad e Jeremiah lo avrebbero accompagnato all'aeroporto. Io scesi a salutarlo, ma non chiesi di andare con loro perché sapevo che non avrebbe voluto. Voleva restare un po' di tempo da solo con i suoi amici e una volta tanto glielo concessi senza litigi. Quando mi abbracciò, mi lanciò il suo tipico sguardo paternalistico, gli occhi tristi e una mezza smorfia. «Non fare scemenze, va bene?» Me lo disse in maniera significativa, come se stesse cercando di comunicarmi qualcosa di importante che io avrei dovuto capire. E invece non capì. Risposi «Non fare scemenze nemmeno tu, cretino!» Lui sospirò e scosse il capo, come se avesse di fronte una bambina. Ci passei sopra. Dopotutto Stephen stava partendo e le cose non sarebbero state le stesse senza di lui. Quanto meno ci saremmo accomiatati senza sciocche discussioni. «Salutami papà», gli dissi. Non tornai subito a letto. Rimasi per un po' sotto al portico, triste e commossa, anche se non l'avrei mai confessato a Stephen. Per molti versi quella sarebbe stata l'ultima estate. Quell'autunno, Conrad avrebbe iniziato l'università. Sarebbe andato alla Brown. Probabilmente l'estate dopo non sarebbe tornato a Cousins Beach. Forse avrebbe fatto un tirocinio o avrebbe girato l'Europa con i suoi nuovi amici. Jeremiah, invece, sarebbe forse andato al campo estivo di football di cui parlava sempre. In un anno sarebbero potute cambiare un sacco di cose. Pensai che avrei dovuto sfruttare al massimo quell'estate, nell'eventualità che non ce ne fossero state altre del genere. Dopotutto, presto avrei compiuto 16 anni. Anch'io stavo crescendo. Le cose non potevano restare uguali per sempre.